Ciao a tutti e a tutte e benvenuti a questa manifestazione. Vi ringraziamo di essere qui con noi nella splendida vornice dei giardini del Meg. Noi siamo i Via Nara e vi accompagneremo attraverso la musica, le note e il canto in un viaggio, attraverso i ritmi e le sonorità del Sud Italia. Ed iniziamo questo nostro itinerario musicale con un brano popolare calabrese